per difendere la democrazia del nostro paese, sapendo che è un appuntamento difficile, certamente, proprio perché siamo intanto di alcuni valori fondamentali che nessuno ci può strappare, che sono quelli della democrazia, che sono quelli dell'antifascismo, della solidarietà umana. Ma, chiarissimi compagni, dobbiamo riunire le forze, riunire le forze su questi elementi fondamentali, riscoprendo le nostre radici, facendo anche le analisi degli errori che abbiamo commesso, senza peli sulla lingua, guardando avanti, guardando con fiducia ai giovani che sono il nostro fondamento e la nostra vita. Allora, sempre, durante la battaglia per il no al tentativo di legge truffa di sconvolgere la Costituzione italiana, quando siamo arrivati al referendum del 4 dicembre del 2016, Carlo Smuraglia, quando ci vedeva in difficoltà, ci dì capire la democrazia oggi in Italia. Grazie. Grazie.